Una notizia che è molto importante da questo punto di vista, ma che forse aumenta l'amarezza oltretutto. Un baracca al Mestre quest'anno, cosa avrebbe dato in più? Sicuramente qualche punto in più, quindi è una classifica diversa, però con il secco in mano sai che non ho mai pensato a queste cose. Si pensa sempre alla realtà. L'importante è che ci sia questa comunque bella notizia, che speriamo si concretizzi però velocemente, perché sì, sarebbe un anno che aspettavamo questa notizia. Sì, voglio dire, l'importante è che ci sia questo minimo di sensibilità che finalmente è arrivata e speriamo che comunque arrivi presto qualche parola in più, qualche conferma. Com'è l'animo di Mauro Zironelli in questo momento? Una stagione buonissima, forse sopra le attese, è un momento però anche adesso di grande riflessione del presidente e quindi anche un po' della squadra stessa. Sì, sì, adesso ci sono rivisto un po' anche con Crociato Perna, Dario. Non vedo l'ora di andare in vacanza, perché comunque due anni fuori veramente io non lo auguro a nessun allenatore, nessuna società, perché è veramente qualcosa di comunque a livello fisico e anche mentale e logorante. Sono stati veramente bravi soprattutto a soparire a questa mancanza, ai ragazzi, come l'ho sempre detto. Speriamo tutti che ci sia una novità imminente, come magari può essere quella di questo fine pomeriggio. e come ti ho detto, spero che ci siano degli altri passi. Mestre, riuscite a dare qualcosa al Mestre? Cioè a far capire la distanza di tanti chilometri? Sicuramente, dall'altra parte, non avremmo avuto il seguito che abbiamo avuto con i nostri tifosi senza fare Ruffiano, perché ci sono sempre stati, sempre, sempre, sempre. Che poi siano stati un centinaio, un migliaio, loro o 50. Grandissimo affiatamento, grandissimo attaccamento alla maglia e credo che anche la mestrinità da parte dei giocatori sia uscita poi in tutti i campi, perché non ricordo delle partite nostre dove siamo stati messi sotto a livello caratteriale o anche di gioco. Quindi da questo aspetto qua abbiamo avuto un grosso aiuto e soprattutto anche fuori caso, perché ci sono sempre stati. Fuori da timidezze, sappiamo che anche già dall'anno scorso, da grande campionato di Serie D, molti si interessavano a Mauro Zironelli, cosa che sta avvenendo giustamente appunto anche adesso. Sì, sì, però come è stato scritto in diverse parti, io sono sotto contratto, cioè è inutile che vado in giro a parlare, cioè io sono del mestre e finché il presidente non scioglie la situazione, io mi ritengo allenatore del mestre, tanto che vado in vacanza, perché non ho nessun tipo di desiderio di andare a ascoltare Tizio Caio Sempronio. Gli ho detto a qualche giornalista, purtroppo non hanno recepito e lo ribadisco. Io sono sotto contratto col mestre 2018-19. Poi tutto quello che verrà o che il presidente deciderà lo condividerò, perché so benissimo che è dura andare a giocare fuori casa. Non è che ci siamo divertiti a fare due anni fuori casa. Speriamo e chiudiamo che abbia seguito la notizia di stasera e ce lo auguriamo tutti quanti. Ultima domanda, c'è solo un tempo massimo già fissato per queste discussioni? No, no, io con il presidente non l'abbiamo mai parlato, perché è giusto che lui validi tutte le cose che deve fare, che deve valutare. L'importante, come ho detto e che purtroppo è successo su altre realtà, è che non si arrivi poi a metà anno e che ci siano le sorprese che ci sono state quest'anno, perché è la fine della fiera, avevo sempre ragione io, sono passato da bestemmiatore, però purtroppo sono diventato profeta su certe cose che ho detto. E tutta la vita la decisione che deve prendere il presidente è meglio essere onesti subito, piuttosto che come da altre parti che non sono stati onesti con i tifosi e poi li hanno presi in giro, giusto? Quindi finisco anch'io con una domanda. Ed è molto importante. Certo, è importante essere onesti, soprattutto con la tifoseria. E un altro anno fuori è veramente dura, ma anche per loro, e l'hanno dimostrato, non si può, siamo gli unici in Italia, cioè io lo rivadisco per l'ennesima volta. E ora che ci siano i segnali, speriamo che questo segnale, che comunque ci ha dato una bella atmosfera già adesso, che venga proseguito con qualcosa di concreto, perché io sfido chiunque di calcio che metta dei soldi suoi propri per mettere a posto una cosa di un altro. Non l'ho mai visto, solo Serena l'ho visto, purtroppo. Grazie.